ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial riguardante farming simulator 2015 allora qual è lo scopo di questo tutorial ci sono molti di voi che mi chiedono e dove compro il gioco e come lo scarico e come funziona dove scarico le mappe come funzionano le mod insomma molti di voi mi fanno un sacco di domande su come riuscire a giocare correttamente su farming simulator 2015 con tutte le mod possibili scaricabili dai vari siti che ci sono allora ho deciso di fare questo video tutorial a 360 gradi quindi partirò proprio dalle basi da ancora prima di acquistare il gioco a tutti i vari passaggi e risoluzione dei problemi che ci possono essere per riuscire a far funzionare le mod per riuscire a far funzionare il gioco eccetera 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 allora ovviamente per riuscire a giocare la prima cosa da fare è acquistare il gioco dove andiamo ad acquistare questo benedetto gioco allora ci sono due o addirittura tre possibilità può essere acquistato tramite la piattaforma steam che è un programma praticamente da scaricare sul pc e non è nient'altro che un negozio online di videogiochi dove tramite un account che vi dovrete fare tutta una serie di dati che dovrete comunque inserire al momento della registrazione questo programma questo negozio online vi dà la possibilità di acquistare tramite carta di credito dei giochi in formato digitale quindi voi andrete a fare il download di farming simulator 2015 ma vale la stessa cosa per tutti gli altri giochi che magari potete avere desiderio di acquistare e una volta che avete fatto tutta la procedura e avete fatto il download del gioco ve lo installate e vi arriverà anche il seriale e tutto quanto e così potete installarvi il vostro gioco la seconda possibilità è di acquistarlo direttamente sul sito ufficiale di farming che è questo quindi se voi qui andrete a cliccare su acquista seguirete tutta la procedura anche qui carta di credito e quant'altro vi arriveranno due email una contenente il link per andare a scaricare il gioco e un'altra contiene il seriale arriva tutto via email quindi una volta che avrete le due email su uno avrete il link di download e andrete a scaricare il vostro gioco e sull'altro avrete il seriale per andare poi ad attivare il gioco la terza possibilità è quella di andare in un negozio di videogiochi e come per ogni videogioco se lo trovate disponibile in supporto disco dal vostro negozio di videogiochi di fiducia e lo acquistate direttamente con un disco originale che secondo me è la cosa migliore da fare una volta acquistato il gioco che voi lo abbiate installato dalla versione digitale scaricata dal sito ufficiale di farming o che abbiate la versione disco cioè non cambia niente una volta che l'avete installato una cosa importantissima da fare e andare a fare l'aggiornamento all'ultima patch disponibile perché questo? perché visto che comunque parliamo anche di mod, mappe e quant'altro alcune mod hanno la necessità di essere eseguite sull'ultima patch di farming simulator 2015 o meglio per essere proprio chiarissimi se non installate la patch 1.3 che è la patch definitiva in alcune mod non funzionano perché richiedono proprio questa patch dove si scarica la patch? andate qua sopra nella sezione update farming simulator 2015 patch 1.3 selezionate la lingua in italiana la lingua in italiano scusate il file pesa 340 MB quindi insomma non è proprio piccolissimo e andrà a correggere tanti tanti errori ragazzi quindi io vi consiglio vivamente di installarla sia per utilizzare tutte le mod che volete ma anche se non utilizzate le mod vi consiglio di scaricare l'aggiornamento perché risolve veramente tanti tanti bug del gioco anche se qualcosina è rimasto ancora, qualche errori non c'è ancora ma con questa patch avrete il gioco funzionante diciamo al 95% avrete proprio pochi problemi la patch sarà un file eseguibile ragazzi quindi una volta che voi avrete fatto il download in lingua italiana perché sennò vi cambierà non so neanche se funziona se voi avete il gioco in italiano e scaricate una patch in lingua estera non so neanche se funziona ma se funziona probabilmente vi cambierà anche il linguaggio non so nei menu o da qualche parte quindi ovviamente scaricate la lingua italiana una volta che avete scaricato il file basta solo cliccare il download parte quando lo facciamo insieme eccolo qua basta solo un clic sopra download sul linguaggio italiano e parte in automatico il download adesso io lo fermo perché tanto non mi serve ottimo una volta che l'avrete scaricato sarà un file eseguibile che cosa vuol dire? che basterà fare doppio clic sopra il file che avete appena scaricato sopra la patch si aprirà una schermata esattamente come quando andate ad installare farming 2015 voi gli direte semplicemente installa lui farà l'installazione e avrete risolto ogni problema il gioco sarà automaticamente aggiornato alla patch 1.3 e quindi l'avrete il più funzionante possibile anche se come ho detto prima qualche errorino è rimasto questo vale sia se avete la versione disco e sia se avete la versione download quindi comunque il gioco va aggiornato nella stessa identica maniera passiamo alle mod iniziamo a discutere un attimo sulle mod le mod sono scaricabili da molti siti tra cui alcune sono disponibili anche su farming simulator 2015 cioè sul sito ufficiale che è questo allora alcuni sono DLC per esempio questo è un free DLC che contiene praticamente quei due veicoli presenti sulla versione per console per PS4 e Xbox One dopo l'uscita della versione per console Giant ha fatto anche un DLC per PC quindi ci ha dato la possibilità di avere anche quei due veicoli su PC questo che è una versione free un DLC free basterà scaricarlo e installarlo sempre su file eseguibile se non mi ricordo male e invece quelli a pagamento funziona un po' come per il gioco quindi per esempio questo è il DLC JCB che ce l'ho anch'io se premete su acquista andrete ad acquistare il DLC e anche lì vi arriverà due email una con il link di download l'altra con il seriale di attivazione il DLC sarà sempre un file eseguibile quindi una volta scusate ho un po' di mal di gola ho un po' il naso chiuso faccio veramente fatica a parlare una volta che avete scaricato il vostro file il vostro DLC farete sempre un doppio clic sul file che avete appena scaricato si aprirà un'altra schermata di installazione con scritto farming 2015 eccetera eccetera voi lo andrete a installare al momento in cui vi richiede il seriale per attivare il DLC andate sull'altra email vi copiate il seriale lo inserite ed ecco che avete il vostro DLC installato ovviamente funzionerà sia sulle mappe originali che sulle mappe aggiuntive che dopo comunque andremo anche a vedere su dove sono e come scaricarle una cosa che vi volevo far presente è che il DLC tutti i DLC si possono attivare al massimo tre volte questo che cosa vuol dire? vuol dire che voi magari acquistate il gioco acquistate il DLC e ve lo installate beccate un virus siete costretti a formatare il computer quindi reinstallate il gioco e reinstallato ovviamente anche il DLC nel momento in cui lo attivate avrete fatto la seconda attivazione del DLC vorrete cambiare il computer quindi cambiate il computer installate il gioco reinstallate il DLC e attiverete una terza volta il DLC a questo punto se vi beccate un altro virus e dovete per forza formatare perdete il DLC o meglio se contattate la Giant normalmente nel giro di due o tre giorni vi risponde e vi manda un'altra attivazione se vi manda un'email con scritto dove vi dice che vi hanno aggiunto un'attivazione quindi potete reinstallare il DLC però non sempre danno ulteriori attivazioni non so in base a che cosa comunque insomma io vi ho avvisato cercate di insomma di fare più attenzione possibile per quanto riguarda virus e quant'altro insomma tenete conto che non avete attivazioni limitate ve lo dico anche perché io l'ho fatto ho passato il mio DLC a Mark e Red e quindi praticamente ho utilizzato un'attivazione io un'attivazione Mark e un'attivazione Red che si può fare però sono già tre attivazioni quindi teoricamente se se formato per dire se mi capita perdo il DLC in realtà quando ho avuto un problema di PC mi è successo ho scritto la Giant e un'attivazione aggiuntiva me l'hanno data però se mi capita un'altra volta probabilmente dovrò riacquistare il DLC se lo voglio usare detto questo per i DLC ci sono anche le mod le mod sono disponibili sul sito ufficiale ma anche in tanti tanti altri siti ce ne sono alcune in categoria beta quelle in categoria beta potrebbero avere qualche minimo problema ma vi assicuro che di tutte quelle che ho provato funzionano tutte non so per quale motivo esista una categoria beta su Farming Simulator 2015 perché fino adesso sono sempre state tutte più che funzionate forse perché magari o magari hanno in programma di fare qualche piccola aggiunta o modifica e poi ricaricare la mod non lo so comunque sono tutte più che funzionanti alcune sono in beta altre invece sono teoricamente a dire dalla giant perfettamente funzionanti comunque anche queste io le ho trovate perfettamente funzionanti alcune mod che scaricate dal sito ufficiale sono in file eseguibile come dlc comunque dopo io ho scaricato la amazon pantera che è su file eseguibile poi ve la faccio vedere altre invece sono direttamente in file zip ovvero in formato compresso comunque non dovete fare altro che fare non so volete scaricare non so questo carro qui questo autocaricante mengene non dovrete fare altro che cliccare su download e partirà il download in automatico prima di spiegarvi come estrarre o non estrarre mod facciamo un giro sui vari siti per scaricare le mod dove scarico le mod allora io ho provato a scrivere semplicemente North Brabant Mod Farming Simulator 2015 mi saltano fuori un sacco di risultati e come vedete possiamo anche andare avanti con le pagine e ci saranno veramente tanti siti dove scaricare mod dove è meglio scaricare queste mod allora il discorso è un po' lungo adesso ve lo faccio cerco di spiegarvi nel più breve tempo possibile come mod io ho preso ad esempio la North Brabant perché tanti mi scrivono che non riescono a farla funzionare allora io adesso vi parlo della North Brabant come mappa ma in realtà il discorso che vi faccio è applicabile a tutte le mappe che potrete andare a scaricare per Farming 15 allora io ho scritto su Google appunto North Brabant Farming Simulator 2015 e mi sono apparsi dei risultati io ho aperto le pagine dei primi risultati che mi sono usciti giusto per farvi vedere com'è la situazione allora di per certo vi so dire che la North Brabant ha bisogno di mod aggiuntive per funzionare allora alcune mappe che andrete a scaricare hanno già le mod che gli servono implementate all'interno della mappa altre come queste invece no voi mi chiederete perché allora alcune mappe le implementano e altre no diciamo che è una questione di scelta da parte del modder il motivo sicuramente più probabile è perché per esempio se installo la multifruit all'interno della mappa e quindi una volta che andrò a far scaricare a tutti coloro che vorranno scaricare la mappa la mappa sarà già funzionata in quanto il multifruit è già installato comporta un problema questo ovvero se quella multifruit non è ben funzionata ha qualche problema oppure abbiamo già in previsione di aggiungere colture o quant'altro che poi dovranno essere implementate sulla multifruit se io ti metto la multifruit già implementata sulla mappa poi ti tieni quella non puoi sostituire e aggiornare la mod invece se faccio funzionare la mappa con la mod multifruit da aggiungere quindi io devo scaricarla e aggiungerla ogni volta che uscirà un aggiornamento io potrò aggiornare il mio multifruit e quindi correggere errori o comunque sia quel multifruit lì farà funzionare altre culture aggiuntive su altre mappe che magari non sono presenti su questa quindi insomma è una questione di scelta comunque io preferisco dovermi aggiornare ogni volta la mod in modo da averla il più funzionale possibile perché solo con gli aggiornamenti vengono corretti dei bug e degli errori che si riscontrano poi a lungo andare nel gioco non tutti i nodi vengono subito al pettine dunque mi imbatto in questo sito su mod 2015.com trovo la mia North Brabant quindi scorro la pagina e mi trovo il link qua sotto che è questo e mi scarico la mia mappa allora come faccio a sapere se ho bisogno di moda aggiuntiva o no dovrebbe esserci scritto allora qui sulla descrizione c'è scritto praticamente ciò che è stato fatto nella mappa quindi per esempio qua c'è scritto che è stato messo il nuovo PDA perché comunque sia la mappa a pink beef pullet quindi nel PDA è stato aggiunto la possibilità di controllare anche gli animali raggiuntivi sono state aggiunte texture delle barbabietole eccetera eccetera quindi nuove texture diverse da quelle della mappa originale è stata aggiunta la multifruit eccetera comunque c'è scritto che cosa hanno aggiunto a questa mappa poi qui c'è la descrizione di tutto quello che c'è nella mappa qui c'è scritto che ci sono tre farm anche se in realtà non è vero comunque hanno aggiunto i pig hanno aggiunto cambiato il biogas insomma c'è scritto tutto ciò che hanno inserito nella mappa poi qua ci sono i crediti quindi insomma i ringraziamenti vari e se noi andiamo a leggere attentamente qua sotto in fondo c'è scritto che servono due mod uno è la well missed colc mod pack e l'altro è l'animation map trigger ma ne servono altre quindi se voi ammesso che abbiate che facciate attenzione che andate a leggere e vi accorgete che ci sono queste due mod da scaricare magari ve le potete cercare a scaricare ma la mappa non sarà interamente funzionata perché servono altre mod per farla funzionare addirittura se andiamo qua su fs15mode.com troviamo sempre mappa north brabant 1.4 vediamo le screen qui stesso discorso c'è scritto che cosa c'è nella mappa e poi non c'è scritto la beata fava quindi se io scarico la mappa da qui la mappa si aprirà però poi inizierò a dire perché non si aprono i cancelli perché non posso seminare la segale perché non posso seminare i girasoli e cominciano ad uscire diversi problemi quindi come cavolo faccio io a far funzionare questa mappa siete costretti a rompere la scatola qualcuno a chiedere perché non vi funziona la mappa tutto questo discorso perché ve l'ho fatto per spiegarvi per quale motivo è meglio scaricare da Modoster perché su Modoster è un sito controllato cioè ogni tanto fanno qualche errore anche loro scappa qualcosa anche loro ma se uno pubblica una Mod su Modoster deve fare in modo che sia assolutamente utilizzabile da parte di tutti quindi non scaricherete mai una Mod da Modoster sulla quale non potrete trarre informazioni per farla funzionare se no proprio non gliela fanno caricare allora su Modoster stessa cosa c'è scritto che cosa hanno aggiunto una cosa e l'altra ma scorrendo andando sotto vi trovate Mod richieste quindi c'è scritto che vi servirà la Mimotion Map Trigger che serve per fare aprire i cancelli vi serve la Chop e Strove che serve per visualizzare nel campo gli scarti di lavorazione delle varie culture vi servirà il Multifruit che serve appunto per riuscire a seminare e coltivare le culture aggiuntive vi servirà Tsunami perché è possibile vendere il latte manualmente vi servirà il Joskin Betimax che è il carro per trasportare gli animali in modo da poter vendere gli animali eccetera purtroppo qui non ci sono i link completi per esempio Chopperstrove c'è scritto Chopperstrove v15003 http www.modoster puntini puntini Chopperstrove quindi se io copio questo link non mi funziona ma a questo punto che cosa faccio fracasso le scatole a qualcuno nella speranza che mi dia un link no è molto molto semplice ragazzi basta scrivere su google Chopperstrove adesso lo facciamo insieme Chopperstrove scriviamo anche ecco qua farming simulator 2015 eccolo qua primo link che compare è già il link di modoster della Chopperstrove e quindi seguendo questo piccolo procedimento con tutte le mod che mi servono io mi vado a scaricare sempre l'ultima versione disponibile che è quella più aggiornata quindi ragazzi non serve fare 20.000 domande a tutti per farsi dare il link ma basta mettersi lì con un po' di voglia e scaricarci le varie mod che servono se i link non sono funzionanti per esempio qua sotto in fondo c'è un link per scaricare anzi due link per scaricare la mod la mappa se non funziona ragazzi non è che non dovete scaricare da nessun altro sito ma se scaricate diciamo da modoster meglio se il link non funziona se scaricate la north brabant 1.4 da un altro sito sapete che comunque è una buona mappa comunque non è senza permessi si può scaricare tranquillamente ma più che per le mappe anche per i vari trattori convertiti legalmente se sono presenti qui vuol dire che sono molto regolari e comunque funzionali se scaricate da altri siti se sono sempre presenti anche su modoster anche se scaricate da altri siti comunque sono modder che vanno bene se su modoster non sono pubblicate è perché sono modder che modoster non ha accettato se modoster non le ha accettate vuol dire che o non hanno i permessi o comunque non funzionano bene e voi mi direte perché allora le pubblicano sugli altri siti anche se non funzionano bene perché ragazzi ci sono due tipi di modder quelli che fanno modder per passione quindi fanno le cose fatte bene nessuno ha niente da ridire è un sito come modoster gliele fa pubblicare perché funzionano bene altri invece lo fanno solo a scopo di lucro ovvero io prendo una mod già fatta la converto illegalmente me ne sbatto altrimenti le balle di permessi o non permessi che funzioni o che non funzioni bene la metto su siti come mediafire o altri siti dove vengono pagati download e più gente mi scarica la mod più soldi guadagno poi se funziona male non importa intanto è la nuda e cruda realtà ragazzi purtroppo tanti lo fanno perché hanno passione e tanti lo fanno a scopo di lucro e basta quindi non gliene frega niente che funzioni se ti fanno crashare il gioco o no eccetera poi ragazzi tutti sbagliano può capitare anche di scaricare una mod da modoster e che non funzioni lo stesso comunque questa è una mia opinione personale secondo me è giusto fare così poi ognuno di voi veda che cosa vuole fare bene come si scaricano le mod allora le mod ci sono link diretti o meno allora in questo caso posso cliccare qua che è uno dei link su uploaded quindi che cosa dovrò fare qui dovrò premere free download mi si apriranno 20.000 pagine di pubblicità perché funziona così e in questo caso il link neanche funziona no funziona quella era solo la pubblicità che è stata rimossa una volta che mi sono chiuse le mie pubblicità aspetterò i 30 secondi quando sono trascorsi i 30 secondi mi verrà chiesto di inserire un codice per verificare che io non sia una macchina ma che sia un uomo una volta inserito il codice andate a premere download si apriranno altre pubblicità adesso lo facciamo insieme quindi bisogna premere guarda ho messo solo il cursore dove devo scrivere partita dalla pubblicità devo scrivere 1471 che è niente meno che questo numerino che compare qui nell'immagine tolgo download manager perché voglio scaricare dal mio browser e prego download in alcuni casi adesso il download parte in altri casi non parte se non parte che cosa fate premete di nuovo qui su north brabant si aprirà un'altra pubblicità rifarete free download rimetterete il codice passati 30 secondi a quel punto ripartirà quindi è un po' una rottura di scatola scaricare da uploaded alcuni non ce la fanno scaricare da uploaded allora andate a cercarvi un tutorial su come cambiare i dns e vedrete che riuscirete a scaricarlo tranne per chi ha connessione vodafone chi ha connessione vodafone può modificare dns quindi non riuscirete a scaricare niente in alternativa potrete scaricare la mappa anche da un link alternativo proviamo a cliccare certificato non valido quindi quando è così io sconsiglio di di proseguire perché non si sa mai che andrete a beccare un virus ipotizziamo che questo link non vi funzioni perché magari non riuscite a scaricare ad upload questo qua non è sicuro che cosa facciamo semplicemente cerchiamo la North Brabant su un altro sito però sappiamo che se è presente su modoster comunque andiamo su sicuro possiamo scaricarla anche da un altro sito per chi non ha mai scaricato mod sia su modoster ma anche in altri siti le mod sono divise per categorie quindi non dovete necessariamente sapere come si chiama la mod ma se cercate un trattore andate qua su categorie trattori vi divide anche i trattori per marca magari cercate un class cliccate su class e vedete che cos'è disponibile quali modo sono disponibili della class su trattori se invece cercate trebbi andate su trebbi eccetera eccetera questa adesso è la versione tedesca ma basta premere qua sopra andare nella versione inglese forse è un attimo più comprensibile nel senso che noi italiani siamo più propensi all'inglese che al tedesco in italiano purtroppo ragazzi non c'è quindi bisogna un attimo mettersi lì e gestirsi fatto questo un'altra cosa importante come faccio a installare le mod dove le metto dove non le metto allora prima cosa da dire per gestire le mod serve un programma come winrar o winzip alla domanda è meglio winrar o winzip è la stessa identica cosa ragazzi è come comprare due macchine di due marche diverse nel senso è meglio la fiat punto o meglio l'opera corsa servono tutti e due per andare avanti quindi che faccio il mio viaggio in punto o che faccio il mio viaggio sulla corsa lo scopo dello strumento è sempre quello quindi farmi viaggiare quindi sia winrar che winzip sono due programmi di case diverse ma che servono a gestire i file compressi l'unica differenza è che io per esempio adesso ho installato winrar quindi vedo l'iconcina della libreria se installate winzip cambierà l'icona ma il concetto resta sempre quello allora questa è una mod scaricata da sito ufficiale di farming simulator 2015 questa è una mod in formato eseguibile quindi che cosa vuol dire farò un doppio clic qui il computer mi chiede di eseguire gli dirò esegui e qua adesso mi dice farming simulator 2015 la mod è stata installata con successo perfetto quindi come vedete non è niente di stratosferico questo per quanto riguarda le mod eseguibili allo stesso modo funzionano i DLC e il gioco scaricato in edizione digitale poi ho scaricato da modoster la multifruit che è una delle mod che servono per far funzionare la mappa e questo qua sempre dal sito ufficiale è il pack CR della New Holland pack di trebbie per capire come faccio a sapere se devo estrarre o no una mod allora per esempio su questa che è la multifruit c'è scritto entpacking quindi questo io l'ho già provato so già di per certo che è un pack qua sul pack New Holland c'è scritto che è New Holland CR pack e anche se c'è scritto pack questo in realtà non è da estrarre poi ci sono delle mod che scaricherete dove non c'è scritto che è un pack però sarà da estrarre e altre mod che scaricherete dove non c'è scritto che è un pack ed è apposto così allora la domanda è se forse la spontanea come cavolo faccio sapere cosa devo estrarre e che cosa no allora perché si estrae una mod perché se non estraete la mod nei pack il gioco non la vede quindi le mod non verranno riconosciute solo estraendola il gioco riuscirà a vedere le mod come faccio a capire quali sono da estrarre e quali no c'è un metodo molto semplice tanti ognuno ha il suo metodo però io ne ho ideato uno semplicissimo che è veramente a prova di stupido se mi consentite il termine per capire se è da estrarre io per abitudine qualsiasi mod scarico anche alcune mappe sono da estrarre qualsiasi mod o qualsiasi mappa scarico io che cosa faccio faccio un doppio clic sopra la mod con winrar che io adesso ho ancora la versione gratuita winrar mi aprirà il risultato quindi mi farà vedere sostanzialmente che cosa c'è dentro e attualmente dentro c'è ci sono due file zzz multifruit.zip e multifruit module standard .zip queste sono le reali mod che devo andare a mettere nella mia cartella che poi vi faccio vedere dove sono se io non estrago questa mod quindi non scompatto i due zip che sono dentro perché in questo caso sono solo due e non me li vado poi a prendere mettere in cartella mod non verranno letti cioè non posso mettere in cartella mod direttamente questo prima di farvi vedere come si estrae che è semplicissimo passiamo a questo pack qua c'è scritto che è un pack quindi voi direte è da estrarre magari non l'avete mai scaricato non lo sapete facciamo la prova facciamo un doppio clic qui ho sempre la versione gratuita si aprirà winrar quindi mi farà vedere che cosa c'è dentro quel file compresso e qui dentro non vedo nient'altro che cartelle e file che queste sono le vere e proprie cartelle e file di cui è composta la mod se non ci sono file compressi all'interno quindi se non vedete come è successo per la multifruit che ci sono all'interno dei file con l'icocino della libreria vuol dire che è a posto così quindi in questo caso questo file qua lo potrò tranquillamente mettere in cartella mod così com'è mentre la multifruit la dovrò prima estrarre come si estrae una mod? è semplicissimo quindi io per sicurezza per non fare diciamo confusione creo una nuova cartella mi metto il mio multifruit qua dentro perfetto faccio tasto destro sul file faccio estrai qui ed ecco che mi ha estratto i due file compressi che sono dentro se voglio fare la controprova se io adesso vado ad aprirmi nuovamente questo vedo che dentro non ci sono più file compressi quindi vuol dire che quella mod è pronta così com'è per essere messa in gioco dove vado a mettere le mod le mod vanno messe qui allora andate su documenti my games adesso io qui ho tante altre cartelle ma voi dovreste avere solo my games farming simulator 2015 cartella mod come vedete io ne ho già diverse di mod nella cartella quindi voi prendete la vostra mod appena estrata o pronta all'uso per così dire la copiate all'interno di questa cartella sempre a gioco chiuso perché se fate questo lavoro con il gioco aperto finché non riavviate il gioco la mod non viene eletta dal gioco quindi chiudete sempre farming se è da estrarre la mod estraetela mettetela in questa cartella e siete a posto una volta avviato il gioco il gioco la riconoscerà bene allora direi che a grandi linee siamo a posto abbiamo visto come aggiornare il gioco dove acquistarlo dove scaricare le mod perché per cosa per come come si estraggono dove si mettono e dovremo essere a posto ora per far funzionare le mappe ragazzi questo procedimento serve per tutte le mod che il gioco vi richiede anzi che la mappa vi richiede quindi adesso vediamo se riesco a tornare indietro sulla north brabant niente non ce la faccio allora scriviamo north brabant che è qual è eccola qua no eccola qua quindi voi andrete a scaricare animotion map trigger guardate se è da estrarre se è da estrarre la estraete la mettete nella cartella scaricherete la chopper strong se è da estrarre la estraete che ve lo dico già io che è da estrarre la metterete in cartella eccetera 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 quando avrete tutte le mod scaricate e estratte siete a posto come ho fatto prima con la chopper strong scriverete tsunami se volete scaricare la tsunami scriverete joshkin betimax se volete scaricare il joshkin eccetera eccetera quindi insomma un attimo di buona volontà vi mettete lì ve le cercate una volta che le avete tutte scaricate da qualsiasi sito non ha importanza l'importante è che siano queste mod che riuscite a scaricare cioè dovete scaricare queste se no la mappa non funziona per l'intero poi non guardate tanto la versione nel senso qua c'è scritto multi moving 3.1 se uscirà la 3.2 al momento in cui voi andrete a scaricare la mappa e anche se cosa è scritto 3.1 voi scaricate la 3.2 scaricate sempre la mod aggiornata ultima cosa che volevo dirvi è un messaggio che mi è arrivato adesso come faccio a portare i mezzi da una mia carriera ad un'altra carriera non c'è un modo diretto per non posso fare un trasferimento vero e proprio prendere un trattore e spostarlo sull'altro salvataggio che cosa faccio allora voi aprite il gioco selezionate salvataggio 1 nel caso che sia il primo salvataggio aprite la mappa che vi interessa e salvate la partita con la mappa aperta così create il salvataggio il salvataggio si troverà sempre in documenti my games farm simulator 2015 adesso come vedete io ne ho tanti salvgame 1 è la prima posizione di salvataggio voi aprite savegame 1 cercate la stringa car savegame tasto destro apri con blocknotes o se avete anche un pad più più usate un pad più più ma io nel momento non ce l'ho installato quindi uso blocknotes qua esistono una marea di stringhe fatte da numeri e lettere che voi non toccherete assolutamente nulla tranne che la stringa money che la troviamo un po' più avanti eccola qua all'interno delle due virgolette dopo money trovate adesso io in questo caso c'è 296.814 voi cancellate questo numero fate così immettete un nuovo numero che possiamo mettere 100.000 una volta che avete messo 100.000 ma questo serve solo ragazzi per aumentare i soldi in carriera e adesso vi spiego perché magari mettete che so un milione di euro mettiamo ancora un paio di zeri 100 milioni quello che volete andrete su file salva adesso io non clicco salva perché se no mi modifico il file della serie una volta che avrete salvato chiudete tutto non salvare riaprite il gioco e nella vostra carriera avrete un milione 100 milioni di euro in base a quello che avete messo una volta che avete fatto quello che cosa fate vi comprate tutti i mezzi quindi vendete quelli che magari non avevate più comprate quelli che avevate nella carriera precedente una volta che avete comprato salvate tornate come abbiamo fatto adesso in car save game mettete i soldi iniziali che vi dà la mappa nel senso che se voi partite con 6.000 euro oppure vi mettete i soldi che avevate nella carriera precedente se eravate 2 milioni di euro mettete 2 milioni di euro o se ne avevate 10.000 euro mettete 10.000 euro e avete diciamo sia i mezzi della vostra carriera precedente sia i soldi della vostra carriera precedente questo è l'unico sistema non si possono prendere i trattori e portare dall'altra parte in un'altra carriera fatto questo io mi sono dilungato fin troppo come al solito quindi spero di essere stato utile per i nuovi arrivati non tanto per chi è già un veterano perché è veterano del gioco di tutto quello che ho detto fino ad adesso non se ne fa esattamente niente perché so già fare tutto quanto mentre per i nuovi spero di essere stato utile quindi io vi ringrazio di avervi seguito fino ad adesso auguri a tutti cercatevi insomma un attimo di buona volontà di riuscire a fare funzionare il gioco comunque sia di tutorial se non avete capito bene come ho spiegato io ne esistono tanti guardatevi un po' di tutorial vedrete che sicuramente riuscite a far funzionare il gioco di nuovo grazie a tutti e ci sentiamo prestissimo in un nuovissimo video grazie a tutti